Sono due i nuovi casi di coronavirus in Toscana, entrambi registrati nella provincia di Prato. Stabili invece i guariti a quota 8.841, che rappresentano l'85,9% dei casi totali. Le due positività emerse nell'ultimo bollettino regionale sulla diffusione del Covid-19 riguardano 1.313 tamponi analizzati. Gli attualmente positivi in Toscana ad oggi sono 332. La nostra regione si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di contagi, comprensivi di residenti e non residenti, con circa 276 per 100.000 abitanti. Attualmente sono 318 le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere oppure asintomatiche. 1.042 invece le persone in sorveglianza attiva, anch'esse isolate, perché hanno avuto contatti con contagiati. Rispetto alla giornata precedente resta stazionario il numero delle persone ricoverate nei posti letto degli ospedali dedicati ai pazienti Covid, 14 in tutto, di cui 2 in terapia intensiva. Nessuna variazione neanche al numero dei decessi, che restano 1114 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. No a più väljazione neanche al numero dei decessi, che restano 1114 dall'inizio dell'interno aiut miei pacsionali 떠manili, che restano 2014 dall'inizio dell'america in ascoltante. TreLA